Sindaco, vogliamo fare un po' di chiarezza per quanto riguarda i lavori di Rete Gas, quelli sia su Porta Romana che su Convallazione Ragusa? Soprattutto per quanto riguarda la colata di cemento che è stata apposta, i cittadini si chiedono ma rimarrà così o verranno rimessi San Pietrini? Allora, innanzitutto chiariamo che sono lavori urgenti per la sicurezza della città e per l'approvvigionamento del gas nelle nostre case. È chiaro che a questi lavori, a questi scavi, seguiranno ovviamente i ripristini come è previsto anche dal nostro regolamento. Ove c'erano i San Pietrini saranno riposizionati i San Pietrini e nelle strade, tanto per essere chiari, intorno a Via Carducci, nelle prossime settimane si faranno i lavori di ripristino. Dove c'è asfalto verrà ripristinato in asfalto e su Convallazione Ragusa ci sarà il nuovo asfalto dalla rotondina all'incrocio con Ponte San Gabriele fino a Piazza San Francesco. E così varrà per tutte le altre strade dove sono stati fatti i lavori. I lavori invece che riguardano l'altra parte della città, in particolare Corso Porta Romana e Circonvallazione Spalato, i lavori di ripristino verranno fatti a primavera. Perché? Perché su Via Porta Romana verrà rifatta tutta la carreggiata. di San Pietrini, come così come l'abbiamo fatta a Via Savini, per cui richiede più tempo e richiede un tempo, diciamo, più tempo sia da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista meteorologico. E quindi si è deciso che si faranno a primavera. Però è chiaro, bisogna su questo forse fare chiarezza, ove c'erano i San Pietrini verranno riposizionati i San Pietrini. Temporaneamente sono stati posizionati il cemento, l'asfalto, perché andava garantita la viabilità. Ma poi i lavori di ripristino l'hanno fatti a regola d'arte e noi vigilieremo su questo. Ricordiamo anche perché i tempi si sono allungati? Ma non si sono, sono tempi normali, avviene sempre così. Cioè si fa il lavoro, si fa il ripristino. Tra l'altro c'è anche bisogno che si assesti un attimino dove si è scavato, che il terreno sotto si assette, altrimenti si formano gli avvallamenti e poi bisognerà intervenire. Siamo perfettamente nella tempistica prevista e tranquillizziamo i cittadini che verrà fatto tutto a regola d'arte.